Ciao bimbi e ciao care mamme! vi siamo mancati i miei video abbiamo dovuto fermarci per un piccolo problemino però adesso tutto tutto bene e che diciamo che questo piccolo mostriciattolo si era presa con uno di noi diciamo così e quindi abbiamo voluto stare un po in silenzio però adesso tutto è tornato a posto quindi possiamo ripartire alla grande come prima ok per l'appunto come va con questo maledettissimo mostriciattolo che si chiama coronavirus dai che pian piano lo stiamo sconfiggendo quindi prima o poi torneremo a casa perché usciremo dalle nostre case e potremo ricominciare le nostre attività potremo ricominciare a uscire a fare tutte le cose che ci piacciono di fare intanto noi ci divertiamo in casa come abbiamo sempre fatto alla facciaccia del coronavirus ok? vi ricordo che vi metterò sempre in descrizione la mail dove potete scrivermi insomma dirmi i vostri pensieri mandermi i vostri video e vi ricordo che oggi è il giorno della canzoncina delle canzoncine e del gioco nostro preferito domani è il giorno delle fiabbe della fiabba sonora giovedì c'è di nuovo il giorno delle canzoncine e venerdì di nuovo la fiabba sonora ovviamente questo programma si può sempre cambiare quindi se avete qualche preferenza mi potete scrivere così io magari mi modello anche alle vostre esigenze ecco quindi mi raccomando scrivetemi io vi aspetto potete sentire e niente adesso partiamo con le nostre canzoncine siamo pronti pronti partenza via ci sono due poccodrini ed uno rango tango due piccoli serpenti un'aguina reale il gatto il topo l'elefante non manca più nessuno solo non si vedono i due leoporni un dino è nella foresta andò e tutti gli animali volle intorno a sé il signore è arrabbiato e il diluvio manderà la colpa non è vostra io vi salverò ci sono due poccodrini ed uno rango tango due piccoli serpenti un'aguina reale il gatto il topo l'elefante non manca più nessuno solo non si vedono i due leoporni bene e adesso io inizio con un piccolo pezzettino e poi dopo tocca a voi mi raccomando non mi ne udete che voi siete bravissimi secondo me ci siamo partiamo pronti pronti partenza via ci sono due ed uno due piccoli un'aquila il gatto non manca solo non si vedono un dì nell'a e tutti gli animali il signore è arrabbiato la colpa non è vostra io vi salverò ci sono due due piccoli un'aquila il gatto il topo non manca solo non si vedono i due leoporni bravissimi secondo me siete stati proprio bravi ok adesso secondo me vogliamo divertirci un po' di più allora facciamo più veloce siete pronti a partire in quarta pronti prontissimi uno due tre ci sono due ed uno due piccoli un'aquila il gatto il topo non manca solo non si vedono un dì nell'a e tutti gli animali il signore è arrabbiato la colpa non è vostra io vi salverò ragazzi però ci sono due piccoli un'aquila il gatto il gatto lì bravissimi benissimo la nostra canzone è andata adesso andiamo a un'altra canzoncina che secondo me è un po' più semplice per voi e ci divertiremo di più siete pronti pronti? bene partiamo pronti partenza via un elefante si dondolava sopra il filo d'una ragnatela trovando la cosa molto interessante do a chiamare un altro elefante due elefanti si dondolavano sopra il filo d'una ragnatela trovando la cosa molto interessante andarono a chiamare un altro elefante cinque elefante si dondolavano si dondolavano sopra il filo d'una ragnatela si dondolavano sopra il filo d'una ragnatela adesso sopra il filo trovando molto interessante molto interessante due elefante due elefanti sopra il filo trovando la ragnatela trovando la ragnatela andarono a chiamare un altro elefante un altro elefante e siamo a quattro più veloce ci siamo uno, due, tre quattro sì sopra il filo molto interessante andarono a chiamare un altro elefante cinque sopra il filo trovando la cosa andarono a chiamare un altro elefante sì sopra un'aragnatela andarono a chiamare un altro elefante sette sette elefanti sopra il filo trovando la cosa andarono a chiamare un altro elefante otto trovando la cosa andarono a chiamare un altro elefante trovando la cosa molto interessante andarono a chiamare un altro elefante e siamo a quattro dieci adesso ci scateniamo prontissimi uno, due, tre dieci elefanti andarono a chiamare un altro elefante trovando la cosa molto interessante andarono a chiamare un altro elefante trovando la cosa molto interessante andarono a chiamare un altro elefante bravissimi secondo me siete proprio bravi bene e adesso andiamo col nostro gioco preferito siete pronti prontissimi allora ve lo ricordo io inizio a suonare voi lo ricantate, ballate, suonate fate le gira volte, non le capriole mi raccomando vi prego altrimenti le mamme mi ammazzano non fatevi male giocate quando poi la musica si ferma, vi fermate pure voi ci siamo e uno e due pronti prontissimi a partire non fatevi Grazie a tutti. Siete fermi? Siete pronti a partire? Siete fermi? 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 Allora abbiamo finito Io vi ricordo sempre che c'è la mia mail Quindi mi raccomando scrivetemi Scrivetemi Se vogliamo cambiare il programma Se vi piacciono più fiappe Se vi piacciono più canzoncine Se volete più Non lo so Datemi le vostre idee Insomma io le aspetto Fatemi sentire Mi raccomando Tolcheratemi Scrivetemi Non so Ditemi Fai schifo? Non ci piaci? Oppure non lo so Non so Tutto quello che volete Ecco c'è la mail apposta Per potermi Scrivere Perchè comunque qui Su Youtube I commenti sono disattivati Quindi mi raccomando Vi aspetto E noi ci vediamo domani Con la fiaba sonora Ciao 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 Ciao